Dal Checco Stadium di Lubriano siamo qui con l'uomo Sky Frinquelli, autore di una tripletta. Com'è stata questa partita oggi? Una partita difficile per noi. La squadra avversaria è una squadra tosta, ragazzi giovani che correvano parecchio, hanno giocato bene. Infatti siamo stati sotto quasi tutta la partita. Fino al secondo tempo poi siamo riusciti a ribaltare sul 4-3. Poi però alla fine ci hanno pareggiato. Poi è stata una partita a chi non subiva più il gol alla fine. Infatti è finita pari 4-4. Comunque come prima partita per noi è stata buona. Ancora non siamo neanche molto collaudati. Quindi va bene così. Come prima partita è andata abbastanza bene. Un pareggio, un punto a testa. Il campo in perfette condizioni. Abbiamo visto ottime giocate, una bella squadra. Quindi l'obiettivo? L'obiettivo è cercare perlomeno di passare il turno del girone. E poi ce la giochiamo, si vedrà. Va bene, in bocca all'uvo. Grazie e alla prossima.